Amici di Player Inside, ma che bello essere qui in questa veste un po' più, come dire, di scherzo, di isgherzo, di isgherzo, come sono? Ah, sì, per annunci lolli, sì, effettivamente, per tua sorella, per tua sorella che non hai. Solo io posso dire tua sorella. Io ce l'ho però, per me è offensiva. Per questo. Sedia per pascare, voce del verbo pascare. Sì. È interessante la settimana delle seghe. Beh, ogni settimana è un po' la settimana, no? Cioè, se voglie, no? Creationi di gioielli. Creationi. Creationi. Questo è un sito che ci avete segnalato voi, che parla di noi. Player Inside del canale di Gianluca Verri e Maria Elisa Calvagna, meglio noti come Ryder and Mid, nati rispettivamente il 2 aprile 1984 e nel 1985. Ma dove? Non precisato però, in un giorno non precisato, a Catania in Calabria. Ma allora, la geografia non è il tuo forte. Fin da piccolissimi entrambi si appassionano al mondo dei videogiochi approcciandosi ai classici Super Mario, Pernese e Pac-Man. Pac-Man mai detto? Io da piccolo non ho mai giocato a Pac-Man, comunque. Da ragazzi, frequentano, a 15 anni, frequentano l'università di Catania dove Ryder segue i corsi di lettere, di scienza della comunicazione e middina quelli di lingue. E questo è vero? E qui che i due si conoscono iniziano a frequentarsi. Non è vero affatto. Allora, però attenzione, che non mi sembri che noi vogliamo essere presuntuosi. Noi ringraziamo tantissimo questo ragazzo, questa ragazza che ha fatto questa fanpage, suppongo, su di noi. No, ma poi sono stati gentili. Disegna la linea per unire uscì di rosso. Uscì di quello rosso, fratello. Ma scusami. C'è DVD. Ok, questi sono originali, tu dici che sono giochi per stasera. Secondo me non sono originali, però c'è DVD. C'è DVD, sì. Due baratorini. Però 80 centesimi, due baratorini, sono noti qualunque cosa essi siano. Coltellino, zbissero. Hai invertito, hai invertito. Anziché zbissero. Allora, questo nemmeno io scrivo. Zbissero. Perché io scrivo pencer. Sì, queste cose schifre. E potremmo dire zbissero felice e contenta. Questa è una cazzata, andiamo avanti, che schifo. Attenzione, qui c'è un'uscita USB 1, USB 2, ma anche i fulmini d'ingresso. Ah, i fulmini. E anche i fulmini di Pegasus, volendo. Gameboy solo interessati. No rompi i calzi. Vabbè, ma stai caldo. No rompi i calzo. Calmati. Giugieli artigianati. Giugieli. Eppure è difficile da dire, giugieli. Giugieli. Carighion. Pezzi di antoquariato. E lambatario come nuovo. Lambatario più o meno lo avevamo già visto. Sì, lambatario, lambata, lampa. Stiamo dicendo, lampadario. Lambadario. Game Gear 2020. Ma perché 2020? A parte 2020. A parte che non è Game Gear, ma manco Pugas. Ma poi Game Gear come scritto. Game Gear. Quale usi tu per le cosce? Somatoline, cosce e glutine. Sì, così. Mettiamo. Un colpo dello spalmio, un altro colpo dello gali. Vento Sony con USB notibi condizione. Prezzo tratto. Allora, lui proprio vente la Sony. La Sony, sì. Politica urechie. Io non sono d'accordo con la politica per le urechie. Questa ce l'avete mandata a tutti, quindi la mettiamo così vi facciamo contenti, ma a me non sembra vera. Comunque ci ho detto Aria. Inculazione, vaccino. Sembra che sia stata modificata. Allora, io non ci credo che sia così, ragazzi. Credete, è tutta spostata verso destra. Eh, quindi, però ce l'avete mandata in 3 milioni, quindi la mettiamo così l'avete vista. Comunque sappiate che doveva essere inoculazione, che significa proprio dove ti azziccano il vaccino. Però inculazione scritto così in realtà non vuol dire un bel niente. Però potrebbe sembrare... Certo. Non toccate alla prossima schiaffi che volano. Sciaffi. Ah, sciaffi. Che è sta cosa? È un riscaldatore, sai di quelli che riscaldano? È un riscaldatore di quelli che riscaldano. È un riscaldatore che riscalda e che serve quindi a, che ne so... A riscaldare. Le colle, le... Ah! Per la costa. Una pistola termica. Una pistola termica, ecco. Vabbè, comunque... La pistola termica, brava, Mid. Comunque qua c'è scritto, precauzioni, si prega di sparare per 5 minuti di fila per prolungare la vita del tacchino. E qui il tacchino. Ah, quindi tu dici che serve per il giornale, grazie a tutti in America, anche per uccidere i tacchini, no? No, però... Però così lo fai agonizzare per 5 minuti, perché sei stronzo, no? Xbox con giochi con la cappa originale da accedere con password dimenticate, più 2 application, più 2 con modifica. Aspetta, io non ho capito, da accedere con password dimenticate? Sì. Che vuol dire... Liquido radiotore. Il bello è che lui ce lo indico. Si dice, guarda, questo è il mio dito, è un passino annuncio lolly, una volta io sono appassino annuncio lolly, ragazzi, guardate. Luci psichatelliche... Ma anche, allora, ma anche se fosse, a parte quei lampate con motore, però dico, a parte, anche se fosse, ma tu non vuoi mai scrivere luci psichedeliche? Cioè, scrivi luci! Beh, si può stare a scrivere psichedeliche, perché sono luci psichedeliche. No, sono psichatelliche. Psichatelliche. Vendo gioco Nerd for Speed Xbox 360, e poi c'è... Allora, a parte che non è Nerd for Speed. Ma poi ci sono dei meme sul Paris Saint Germain. Perché? Sul calcio. Joe. Joe. Capito? Sì. Amico Joe. Mamma mia, che boomer. 91, amico Joe. Ma cos'era? Il negozio di giocattoli. Chi se lo ricorda, scrivesse qua, io ricordo. Je suis, amico Joe. Porcine per capelli. Bene. I facon funzionan a un graffio alimentatore. Orologio a pentola. Sì. Con corda tutto legno funzionante. C'era l'altra volta il pentolo. E questa è pentola. Playsthe suon 4. Carico intendo originale. Sì. Però puoi scrivere scarico intendo originale. Cioè, non l'hai scritto giusto da nessuna parte. È un caricatore. Aiuto, a tal proposito. Come posso imballare il materasso per il camionino del trascolo? Per il camionino del trascolo? Ma che... Camioncino del trasloco. Ti ricordi il colore Ibrahimovic? Sì. Che era tipo un Pokémon. Non mi ricordo che Pokémon era. Forse Pikachu. Comunque era colore Ibrahimovic. Qui, Ivi, di che colore è? Che colore è Ibrahimovic? Oppure c'è anche del Piero. Il colore del Piero, perché? Oppure c'è anche il grasso Ding. C'è anche non siamo riusciti. Qui abbiamo direttamente Natale della famiglia Ibrahimovic. Ed è sempre un presepe dei Pokémon. Ma perché? Allora fosse in Cina, perché questo è un sito cinese, probabilmente i Pokémon in Cina si chiamano Ibrahimovic. Non capisco. Scusami, c'era anche del Piero un'altra volta. E ce n'è un'altra tipologia che si chiama del Piero, ma lì quello soltanto a Hong Kong. Tu come chiameresti lo scopino del bagno? Scopino del cesso. No, qui c'è un nome più intelligente. Alessi Merdolino. E' bellissimo. Palline per l'osse. Luminarch più atto fondo. Righe un rigo. Righe un rigo. Salve, allora non sono venuta. Guardi, guardi, prima che entra. Lei, prima che entra in questo localo, legga il cartello fuori. Me lo legga lei per favore? Allora, solo asporto, porca puttana. Perché ce lo chiedono in tanto? Ma c'è bisogno di essere così volgari, scusi. Sì! Allora ragazzi, prima che... Perché l'altra volta, Raider ha urlato. Io ti ringrazio per la dimostrazione di affetto nei confronti di Midna. Grazie però. Però di me mi avete ammazzato. Tu ti avevi scritto, no, povera Midna. Ma era lo sketch, era la gag. Cioè uno si fa un culo così per farvi ridere. Tranquilli, tra l'altro i video di annuncioli li monto io. Quindi state tranquilli. Se fosse stata un litigio vero non l'avrei messo nel video. State tranquilli che era una gag. Se ci sei rimasta mal, lo puoi dire. No, assolutamente no, perché anzi volevo fare la faccia per dire... Grazie di no, fai così con la mano se ti stanno maltrattando. No, 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 scherzo, scherzo. No, tranquilli ragazzi. Noi ci divertiamo. Non ce l'ho lì una rubrica fantastica. Continuate a mandarci annunci l'ho lì perché va bene. Ho detto tutto. Alla prossima. Ciao.